Andrea Pietrunti, portiere della Chaminade, sconfitti in Coppa Italia di misura comunque a testa alta. Sì, sicuramente. È stato un match bello, soprattutto perché c'è stato modo di provare veramente tutti gli effettivi. Mi compreso che sono partito dalla panchina, quindi penso che era giusto dare merito a tutti i ragazzi che si stanno allenando in maniera egregia dal primo giorno di preparazione. Nonostante questo abbiamo fatto una bellissima partita. Come dicevo prima, purtroppo ultimamente paghiamo veramente oro gli errori che facciamo in fase difensiva, ma più che errori magari delle piccole sfortune. Molte volte ci capita di subire giusto due o tre tiri e prendere due o tre gol. Questo molte volte la dice lungo anche sul periodo dell'andamento sia del campionato ma anche di Coppa. Quindi oltre alla sconfitta penso che il mister ha avuto anche delle risposte positive da parte di tutti. Poi ovviamente sono partite che tutti quanti vogliamo vincere, a maggior ragione se è un derby. Però penso che il bello di questo sport è che ti dà sempre tante possibilità per rifarti e noi ne abbiamo già una subito sabato in campionato dove ci concentreremo visto che siamo usciti dalla Coppa. Al di là che si tratti di Coppa o Campionato, la sfida con il CLN Cusso Molise è comunque bella da vivere, bella da giocare, segno che il campo basso nel calcio a 5 c'è. Assolutamente sì, questa è una risposta concreta a quelli che definiscono il futsal uno sport minore. Assolutamente non è così, si vede ogni sabato, ogni mercoledì e magari si gioca anche durante la settimana le tante persone che vengono a vedere, a maggior ragione in un derby che sportivamente parlando c'è sempre stata una rivalità, è ancora più bello potersi confrontare con ragazzi della città, essere tra virgolette nemici in campo e poi dopo finito i 40 minuti effettivi finisce lì. Poi ripeto, queste partite le vorrebbero giocare tutti, mi compreso, fino alla fine ho sperato di poter far parte della partita, speravo di dare qualcosa in più però lavoreremo anche per questo. Mister Sanginario va al CLN, il derby di Coppa con la Chaminade, prestazione tutta a cuore della sua squadra. Sì, partita non bellissima, soprattutto nel primo tempo almeno da parte nostra, il secondo un po' più incisivo di sottoporta, era un risultato da tripla, fortunatamente è uscito due. Prestazione positiva sotto tutti i punti di vista nonostante tanti impegni in calendario. Sì, l'obiettivo primario per noi rimane il campionato, ecco il passaggio di turno ci fa piacere, non era un obiettivo nostro però l'abbiamo raggiunto, questo è orgoglio della società ma soprattutto dei ragazzi che dall'inizio dell'anno si stanno impegnando veramente tantissimo. in realtà è veramente va dedicato all'ora, ecco l'impegno vostro, l'immagine di Cioccia che segna a braccia Cavaliere e Leccese per gli errori commessi in campo, la dice tutto sulla genuità e sulla bondà del gruppo. Dando uno sguardo a campionato, siete partiti alla grande con quattro vittorie su cinque partite e non si poteva fare di meglio. Sì, in realtà siamo veramente un po' tutti sorpresi di questa partenza incredibile, quattro vittorie su cinque è un bottino veramente da fare invidia ai miei squadroni del torneo. Speriamo di dare continuità ai risultati, ecco sappiamo che non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi, i nostri obiettivi si chiamano la salvezza, le squadre si fanno con i budget alla mano, non con le persone che scendono in campo, è chiaro che poi chi vuole scendere in campo gioca sempre per vigi. Però non perdere l'obiettivo, ti consente di giocare contro le dirette concorrenti, sapendo che ci sono tre punti in valio che possono valere il doppio, e di fare buone partite con le squadre che puntano a vincere il campionato e non viceversa.